con i c u a tutti e ben ritrovati in un nuovo unboxing velocissimo ve lo prometto di into the 4k è arrivato l'ultimo film ma neanche l'ultimo film perché ha fatto già un prequel di questo film dedicato al personale non ho visto il film ragazzi non l'ho visto ma un prequel dedicato alla ragazza protagonista di questo film mia goth e questo è x a sexy horror story diretto da ty west un regista che cerca sempre di per quando vedi i suoi film cerca sempre di fare qualcosa per farsi conoscere sempre non lo so però si blocca sempre lì anche cos'era il seguito di cabin fever poi lui ha detto che gliel'hanno modificato non lo so non lo so non sono tanto convinto di ty west cioè non sono ancora riuscito a inquadrarlo bene comunque l'edizione 4k di x a sexy horror story è arrivata in italia distribuita dalla midnight factory play on picture ed eccolo qua troviamo l'italiano in dts hd master audio 7.1 anche se al cinema era 5.1 quindi remix non riesco a capire e l'inglese in 5.1 nonostante all'estero sia distribuito in dolby atmos ci sono vari contenuti speciali come ho detto nel video dell'uscita dovrebbero essere solo qualche intervista niente di super 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 però daremo un'occhiata al film sicuramente arriverà la recensione ragazzi e adesso diamo un'occhiata alla steelbook molto molto carina cerco di non dare ditate sopra la steelbook anche perché poi si vede tutto voilà questa è la steelbook e questo è l'interno troviamo un piccolo booklet ma diamo un'occhiata a com'è lo sfondo si lo so ragazzi prima o poi scoprirò come togliere sti riflessi da qua devo studiarmi un qualcosa per togliere i riflessi lo so vabbè lo sfondo non si vede quasi niente non si riconosce niente nello sfondo ma ricomponiamo il tutto diamo un'occhiata al buclettino qui all'interno se volete fare pausa ve lo potete anche leggere qui in tempo reale t west perché vuoi essere in questo film quindi ritroviamo varie interviste l'horror e il porno è da vedere questo film assolutamente voilà ricomponiamo pubblicità della midnight factory e questo è un incubo spirituale ti aspetta questo ero curioso è tutto un gioco riguardante una setta tu sei in mezzo a questa setta un survival questo sono molto curioso l'ho visto sul play store quasi quasi prima o poi ci caschiamo ma ecco qui e voilà ricomponiamo il tutto ed ecco qua x versione questo ebook ultra limited edition recensione di questo 4k appena appena lo vedo ragazzi quindi noi ci rivediamo nel prossimo episodio di into the 4k sayonara a tutti e bye bye ciao 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 ciao